Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi ci troviamo sul mio desktop per vedere una notizia che ho visto in giro per quanto riguarda gli utenti da pc ragazzi Allora Ubisoft ha detto nell'E3 2018 che avrebbe regalato un gioco fino al 18 di giugno e in particolare questo gioco For Honor Quindi allora per ottenere questo gioco ragazzi dovete essere iscritti innanzitutto al sito Ubisoft e dovete avere un account Uplay Però io stavo guardando e guardando qui ho digitato For Honor A parte che ci sono tantissimi sconti sia per quanto riguarda le console PS4, PC e Xbox A parte quello ragazzi E come dicevo ho cercato questo For Honor qui nella sessione dei giochi e non l'ho trovato Almeno io non sono riuscito a trovarlo Quindi che cosa ho dovuto fare ragazzi Sono dovuto andare tramite browser che adesso vi faccio vedere E vi troverà la notizia Allora voi digitate For Honor gratis e vi compare il primo sito ragazzi E vi porterà in quella pagina in cui andrete a vedere come dicevo io ragazzi For Honor Start Edition gratis su Ublay PC sconti sulle versioni per console durante l'E3 ragazzi Allora questo qui è quello che hanno comunque dichiarato gli sviluppatori di Uplay E' quello che è realmente adesso ragazzi Quindi basterà cliccare su questo tasto dopo che vi sarete loggati con il vostro account Uplay Quindi cliccherete su questo tasto Vi porterà su For Honor Allora questa versione di For Honor ragazzi Questo è il mio account Quindi dovrete digitare Cioè dovrete dire si usa questo account Ovviamente Avviate il client Se ce l'avete Che io invece lo devo scaricare ragazzi Molto probabilmente perché mi sembra di averlo cancellato Quindi lo andrò a scaricare al volo E come dicevo questa versione di For Honor Diciamo non è proprio la versione completa Ma come avete letto è una versione starter Una versione che comunque diciamo ha un po' di cose Non ha tutto però ha un po' di cose Allora per gli utenti PS4 e Xbox One Per chi fosse interessato Diciamo che il gioco in sé Mi sembra il 60-70% di sconto Qualcosa del genere Quindi basterà cliccare sulla voce che voi cercate Non so sulla console che voi avete Se avete PC Se avete PlayStation Se avete quello che cazzo avete Ci cliccate sopra E troverete come ho già detto parecchi sconti Come vedete ci sono veramente parecchi sconti Su Uplay Magari volete acquistare un gioco Sia su PlayStation 4 Sia su Xbox One Sia su PC Così potete farlo Allora vediamo Allora innanzitutto qui abbiamo Il client di Uplay Che io l'avevo scaricato Però ho dovuto formattare il PC Quindi l'ho disinstallato Lo vado a reinstallare al volo Speriamo che lo installa rapidamente In maniera tale che possiate vedere Che cosa Che cosa e come Insomma dobbiamo fare Quindi torniamo Qui E andremo ad avviare Il client A questo punto lo abbiamo avviato Digiteremo la nostra mail e password Ovviamente so cazzi miei E una volta che abbiamo digitato Mail e password Aspettate che non mi ricordo Ci farà comunque collegare Il nostro client Al server di Uplay E ci darà la possibilità di poter scaricare Ragazzi Quindi fate accedi Vi comparirà la scritta Vi dirà tutto Tutto quello che vi deve dire Schiacciate sul continuo A me Almeno apre con un cazzo di Aspettate ragazzi E anche qui Noi avremo il client ragazzi Dove potremo Guardare tutte quante le notizie Diciamo di Uplay Di tutto quello che c'è Questo mese Di quello che possiamo scaricare Allora A questo punto Abbiamo avviato il client A questo punto dobbiamo fare In maniera di scaricare il gioco Andremo su giochi E andremo a cercare For Honor Ovviamente Andremo a cliccare su download Ragazzi Download in italiano Ovviamente Non è che dovete per forza Scaricarli in italiano Fate continua E lo scaricate ragazzi Allora Qui vabbè Avete tutta una serie di opzioni Che potete scegliere Quello che volete fare Quello che non volete fare E vedete dove cazzo Lo volete scaricare E tutto il resto Io non intendo scaricarlo Perché non voglio Sovraccaricare il mio pc Altri giochi Sinceramente E quindi non andrò a scaricarlo Però potete anche solo Aggiungerlo alla vostra libreria E magari scaricarlo Quando avete tempo Quando avete voglia E quando cazzo Ve va a voi Insomma In maniera tale Che voi avrete I vostri giochi Nella vostra libreria Ovviamente E E li potete Scaricare Quando volete Niente ragazzi Detto questo Non ho nient'altro Da aggiungere Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti No mercy Grazie per la visione!